L'Alzano Cene porta a casa un pareggio con la capolista Mantova, un pareggio che vale un ulteriore punto in classifica e conferma la voglia di riscatto della squadra seriana. I ragazzi di Mister Sgro entrano in campo determinati a non subire il carisma della capolista e Spampatti mette subito in chiaro le sue intenzioni, con un gran destro che finisce a lato di poco, una prova di forza che fa reagire Portesi nei confronti della sua difesa. Passano pochi minuti e all'undicesimo L'Alzano Cene va in vantaggio. Calcio d'angolo di Dattoma dalla destra, confusione della difesa avversaria e Valenti approfitta insaccando sottomisura. Al Mantova non va giù di essere sotto di un gol e prova ad aggredire, ma Ostricati è pronto a sventare il pericolo. Al minuto 16 però Franchi si beffa di Serafini e Fornoni e dal limite infila di destro il gol del pareggio. Il Mantova non è ancora soddisfatto, tre minuti dopo infatti torna in rete con Caruso. Una punizione da 20 metri e Ostricati si ritrova la palla in rete senza nemmeno rendersene conto. Il momento è difficile, il sapore del vantaggio è durato davvero poco per l'Alzano Cene, che si ritrova sotto nel giro di pochi minuti. Ma la squadra dimostra carattere ed è ancora spampati a tentare il colpaccio. Al 36esimo infatti calcia una punizione che scheggia la traversa. Poi anche Dattoma al 42esimo cerca lo specchio della porta con un bel colpo di testa, che però risulta vano. La prima frazione di gioco termina così, con il vantaggio del Mantova sull'Alzano per due reti a una. La ripresa inizia con un Valenti sprecone, Spampati è ben marcato e Valenti, solo davanti alla porta, perde l'attimo fuggente. Una brevissima indecisione che Caruso coglie immediatamente. Al nono però Spampati non perdona. Dattoma parte dalla metà campo, passa Valenti, Spampati prende in consegna la sfera e tira in porta, segnando il 2-2 con la complicità di Portesi. Il bel gioco dell'Alzano Cene ha caratterizzato questa scoppiettante partita, che sancisce il ritrovato carattere della squadra seriana.